Fiori bianchi per dare l'addio a Lorena, che tutti ricordano col suo sorriso, che faceva di lei una donna cordiale, splendida, amorevole. L'ultimo saluto a Lorena Paolini, 53 anni, morta nella sua abitazione, incontrata a Casone ad Ortona, il 18 agosto, è stato dato in una chiesa gremita a Santa Maria delle Grazie, con tanta gente che si è stretta al dolore dei familiari e di chi le voleva bene. Molti negozi dalle 17 alle 18 hanno abbassato le saracinesche, in segno di lutto, raccogliendo l'invito delle associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti ed Ascom. Tanto dolore, manca tanta rabbia e tensione. La gente ha voglia di sapere che cosa è successo a Lorena. La comunità prega per questa bella anima e si stringe fortemente al dolore della famiglia. Nel silenzio più assoluto si legge i numerosi messaggi sui social. E Monsignore Emidio Cipollone, che ha celebrato la messa, ha parlato di questo dolore. Tutti siamo prigionieri in questi giorni del dolore, dello sconforto, dello scoraggiamento. Siamo prigionieri di tante cose e il dolore della sofferenza ci impedisce di vedere chiaro nella nostra vita, ha detto. Aggiungendo che l'ultima parola deve essere amore e non morte. E sul caso le indagini continuano. L'appartamento in cui viveva la donna con la sua famiglia è ancora posto sotto sequestro. L'autopsia effettuata nei giorni scorsi sulla Salma dal medico legale Cristian Dovidio ha confermato che i segni sul collo sono compatibili con uno strangolamento. Quei segni sul collo che hanno insospettito subito i sanitari del 118, chiamati dal marito Andrea Ceri, che come ha raccontato ai carabinieri facendo rientro a casa intorno all'ora di pranzo, aveva trovato la moglie agonizzante sul divano. La relazione sull'autopsia verrà depositata entro due mesi. Sul caso è stato aperto un fascicolo d'inchiesta e al momento unico indagato dalla procura della Repubblica di Chieti per omicidio volontario aggravato risulta il marito Andrea Ceri, 51 anni, imbredditore delle pompe funebri. Lorena lascia due figli adolescenti, Camilla e Carlotta, che amava tantissimo. La sorella Silvana non si dà pace per aver perso Lorena. Vuole la verità. Un lungo applauso tra le lacrime e la rabbia. Ciao Lorena.